Dopo i successi già ottenuti in tumori come quello al polmone e il melanoma, l'immunoterapia inizia a dare risultati importanti anche nel trattamento del cancro alla vescica. Abbiamo fatto il punto sulle novità più importanti in questo senso, in particolare i nuovi dati sul febrolizum, presentati al congresso dell'ASCO a Chicago con il dottor Giuseppe Banna. Sentiamo che cosa ha detto il nostro collega. Alla 48esima edizione dell'ASCO sono stati presentati diversi studi sul carcinoma uroteliale. Di che studi si tratta e che risultati emergono? Emergono delle conferme importanti circa l'immunoterapia che diventa un trattamento assolutamente efficace e assolutamente ben tollerato in una patologia per cui da 20 anni aspettavamo un'alternativa, un'opzione terapeutica che non veniva. Si tratta di una patologia frequente, rappresenta la nona patologia, il carcinoma e la vescica per frequenza in tutto il mondo. Si tratta di una patologia che spesso colpisce delle persone vulnerabili, delle persone anziane, in cui è molto importante sviluppare dei trattamenti efficaci e allo stesso tempo anche assolutamente ben tollerati, cioè dotati di un profilo di tossicità assolutamente accettabile per il paziente. Queste conferme riguardano l'immunoterapia e in particolar modo la conferma con due anni di follow-up del Keynote 042 ci dà un'idea di come ci sia una percentuale di pazienti non irrilevante che si beneficia di un trattamento immunoterapico dopo un precedente trattamento chemioterapico. E questi pazienti raggiungono una significativa mediana di sopravvivenza, cioè una sopravvivenza che prima non potevamo immaginare con i trattamenti chemioterapici attuali. Perché? Perché rispondono molto bene, i pazienti che rispondono rispondono molto bene all'immunoterapia e rimangono in risposta per moltissimo tempo. Pensate che la differenza in termini di durata e la risposta che abbiamo osservato nel Keynote 042 è di quasi il triplo a due anni. 25% dei pazienti rimane in risposta dopo aver avuto appunto una risposta con la chemioterapia verso invece il 65%, 60-65% dei pazienti che hanno avuto una risposta con l'immunoterapia. E questo è un dato che è estremamente importante perché anche le altre novità che stiamo celebrando in questi giorni qui all'ASCO di altre linee chemioterapiche che probabilmente verranno dopo la scelta immunoterapica nel carcinoma e la vescica come ad esempio l'Enfortumab o l'Edefortinib che sono il secondo farmaco specifico per alcuni pazienti che presentano una particolare alterazione e quelle dell'FGFR hanno dimostrato un profilo di attività importante ma come tutti i chemioterapici non sono in grado di indurre quella durata e la risposta che induce l'immunoterapia. Appunto lo diceva lei, dopo 20 anni di sola chemioterapia adesso c'è l'immunoterapia. Quali sono i vantaggi per i pazienti anche dal punto di vista della qualità della vita? Beh sicuramente anzitutto la durata e la risposta. Avere una risposta di malattia significa ridurre il carico dei sintomi correlati alla malattia. Mantenerla per molto tempo è un dato assolutamente per noi oncologi inconcepibile prima soltanto con la chemioterapia. Ovviamente come dicevo sono dei pazienti vulnerabili, sono dei pazienti anziani che spesso hanno un'insufficienza renale legata a un ostacolo da parte del tumore sull'eliminazione delle urine e questo è un dato estremamente importante quello che riguarda la tossicità, cioè il trattamento immunoterapico ha una tossicità nettamente inferiore rispetto a qualsiasi trattamento chemioterapico e questo è quello che emerge in tutti gli studi immunoterapia non soltanto col Pembrolizumab ma in tutti gli studi con immunoterapia questo è un dato che emerge in maniera forte. In particolar modo col Pembrolizumab, nello studio che poc'anzi citavo, nello 042 abbiamo anche un dato molto importante che riguarda la qualità di vita è un dato anche pubblicato su una rivista prestigiosa, il Journal Clinical Oncology che ha mostrato come con l'immunoterapia andiamo a stabilizzare o addirittura migliorare la qualità di vita rispetto alla chemioterapia dove invece appunto la chemioterapia anche laddove riesce a dare una risposta peggiora purtroppo la qualità di vita quindi questi sono i benefici per i pazienti è ovvio che dobbiamo ancora fare tanto dobbiamo essere più bravi a selezionare questi pazienti attualmente è una percentuale, sono un 25% dei pazienti uno su quattro non è poco ma dobbiamo essere più bravi a selezionare questi pazienti e i dati che provengono da alcuni studi di fase 2 molto preliminari che sono stati presentati durante l'ASCO degli studi di terapia neadiuvante ovvero preparatori all'intervento chirurgico ci danno anche delle ottime prospettive sui criteri, sui fattori anche biomolecolari che possiamo utilizzare per selezionare questi pazienti in particolare mi riferisco a uno studio peraltro presentato da un italiano da Andrea Necchi e il Pure One col Pembrolizumab in neadiuvante appunto come trattamento preoperatorio laddove sono stati studiati dei biomarcatori è stato possibile anche identificare alcune persone alcuni pazienti che riescono veramente a trarre il massimo beneficio da questo trattamento immunoterapico